Festa della Toscana, la cerimonia al cinema, la compagnia a Firenze, il messaggio di pace delle autorità religiose nel segno di Don Milani. Festa della Toscana nel segno di Don Milani. Al suono delle chiarine, seguito dall'inno alla gioia e dall'inno di Mameli, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha aperto al cinema la compagnia a Firenze, la seduta solenne della Festa della Toscana, dal tema I Care, la Toscana dei valori umani e della lotta alle disuguaglianze, a cento anni dalla nascita di Don Milani. Dopo un ringraziamento a Silvana Sciarra, presidente emerita della Corte Costituzionale, e a Rosi Bindi, presidente del Comitato delle celebrazioni per il centenario di Don Milani, Mazzeo ha chiamato sul palco il cardinale Giuseppe Vettori, arcivescovo metropolita di Firenze, Izzedine El Zir, imam della città di Firenze, e Gad Fernando Piperno, rabbino capo della comunità ebraica di Firenze. Sala gremita di autorità civili, militari e religiose, di molti sindaci e studenti e dei componenti dell'ufficio di presidenza. La Toscana, dal 2020, siamo al ventitreesimo anno e continueremo all'infinito, ricorderà sempre, in modo solenne, il 30 di novembre del 1786, quando il primo Stato al mondo abolì la pena di morte. Era allora il Granducato di Toscana guidato da Pietro Leopoldo. Oggi la pena di morte esiste in due terzi del pianeta. E quindi ci rendiamo conto come l'attualità di quello che fu per la prima volta in Toscana un atto di riconoscimento di diritti, dell'umanesimo, della persona umana, che qualsiasi cosa abbia fatto potrà essere in carcere per tutta la vita, ma l'inviolabilità della vita umana è fondamentale, possiamo affermarlo e rivendicarlo in tutto il mondo come primato della nostra regione. Intorno a questo, la festa della Toscana significa sempre il riconoscimento delle eccellenze, degli aspetti che proprio sul piano dei valori caratterizzano la Toscana. In un mondo che chiede diritti per la persona, chiede che vi sia la valorizzazione della persona umana in tutto il mondo, costellato purtroppo sempre più da guerre. E quindi la questione dei diritti si unisce a quella della pace. E proprio stamani, in nome di Don Milani, avremo il riferimento a quello che sono i valori che attraverso la pace, l'obiezione di coscienza, il diritto e il riconoscimento a un'educazione per tutti, sono quelli su cui si è conformata una delle regioni che viene considerata fra le più civili del mondo. Oggi noi ricordiamo che la Toscana è stata la prima regione al mondo nel 1786 ad aborire la pena di morte e purtroppo ancora oggi quasi 60 stati al mondo utilizzano ancora la pena di morte facendo violenza a chi ha fatto violenza. La Toscana è terra di diritti, la Toscana è una terra che non si è mai voltata dall'altra parte. Abbiamo voluto oggi che insieme a noi ci fossero il rabbino capo, ci fossero l'imam di Firenze, il Cardinal Betori, perché la Toscana è una terra del dialogo, è la terra di Giorgio Lapira, la Toscana è una terra che vuole contribuire attraverso il dialogo interreligioso a cercare di costruire le condizioni per la pace nel mondo. È un tempo difficile quello che viviamo, abbiamo pensato ad un certo punto se farla o non farla questa festa, lo abbiamo fatto pensando alle vittime del terribile alluvione, a chi ancora ha un'azienda che non si riapre, le famiglie sono in difficoltà, però abbiamo pensato di farla per mandare un messaggio forte alle ragazze e ragazzi più giovani, di non voltarsi mai dall'altra parte, di costruire le condizioni per cui ci sia una giustizia sociale più forte, per fare in modo che le parole di Don Milani, quel I care, quel me ne prendo cura, siano alla base del nostro impegno. Un'anima il plauso alla Regione per aver scelto di dedicare questa edizione della Festa della Toscana alla figura di Don Milani. Voglio esprimere la mia gratitudine alla Regione per aver scelto la figura di Don Milani come figura emblematica di questa festa nel centenario della sua nascita. È una figura per la persona che ha molto da insegnare a noi, sia nella promozione della dimensione umana della persona, della sua dignità attraverso la cultura, attraverso la parola e quindi la cultura. E poi persona che ha spinto sempre alla responsabilità verso l'altro. L'I care che viene ricordato anche nel titolo della festa dice questo, che nessuno di noi può esonerarsi dal farsi responsabili verso i problemi degli altri, soprattutto dei più migliori. anche fuori schemi realmente e abbiamo bisogno oggi tutti quanti del coraggio di lavorare per costruire una vita più importante. I care è quel motto che vuol dire devo fregarmi dell'altro, devo condividere l'altro, devo mettermi nel vano dell'altro. Oggi abbiamo bisogno di questo. personalmente per me e per la comunità con l'onore di rappresentare, essere stati chiamati qui a portare un saluto in questo giorno così importante. È un grandissimo onore, partecipiamo perché la comunità ebraica in Toscana ha origini antichissime ed è sempre stata parte integrante del tessuto della società toscana. Quindi noi oggi anche siamo in festa con tutta la Toscana. Poi il tema anche di un'istruzione, di un'educazione che non sia solo a pannaggio dei più potenti ma che sia un elemento di crescita di tutta la società è un tema che nell'ebraismo è anche un tema fondamentale. Quindi anche proprio nel tema scelto di questa giornata ci sentiamo pienamente dentro. La lezione di Don Milani la ritroviamo in una Toscana solidale. Noi siamo questa terra, noi possiamo rilanciare l'amore e la pace, ha affermato Rosi Bindi. In questo momento Don Lorenzo Milani è un testimone di questa terra particolarmente attuale. Lo è come prete, lo è come credente, lo è come maestro e lo è soprattutto come critico di quel modello di sviluppo che negli anni 50 e negli anni 60 ha visto convivere una Toscana ricca alla quale lui apparteneva e una Toscana molto povera, sfruttata nelle fabbriche, nelle campagne. Sicuramente dal tempo di Don Lorenzo Milani molte cose sono cambiate ma forse dovremmo guardare a questo tempo con l'occhio di Don Lorenzo e vedremo l'aumento delle disuguaglianze, i pochi investimenti nella scuola, nella sanità, nei beni comuni che stavano a lui tanto a cuore e soprattutto una perdita di patriottismo costituzionale. Lui aveva definito la nostra Costituzione quella che aspettiamo da duemila anni e forse Don Lorenzo Milani oggi ci direbbe di attuarla e non di stravolgerla. Queste le voci delle varie componenti del Consiglio. Una festa che ha sempre un grande fascino, un valore unico, i care, l'idea di prendersi cura degli altri, di chi soffre e non solo degli ultimi e non solo ma soprattutto di farsi carico di tante persone che in questo momento sono in difficoltà lo sono nella nostra regione, lo sono nel mondo, la Toscana si deve fare carico di tendere sempre una mano verso gli altri la Toscana l'ha dimostrato nella propria storia rispettando il valore dell'uomo quanto tale, rispettando il valore della persona in quanto tale e oggi bisogna affermare questi nostri valori e affermarlo con una festa che ricorda la nostra storia e che dimostra che la Toscana può avere un ruolo non soltanto nel contesto nazionale ma anche internazionale dentro i processi di pace e dentro dei processi che devono portare l'umanità a riscoprire una sorta di maggiore rispetto del valore umano della persona quanto tale e questo deve accadere su tutti gli aspetti della vita sociale. L'abbiamo visto in questa settimana rispetto alle questioni che riguardano la violenza contro le donne l'abbiamo visto nei confronti dei minori, l'abbiamo visto a livello internazionale la Toscana deve fare e può fare di più. Innanzitutto dobbiamo essere particolarmente fieri di essere eredi di quel gran ducato di Toscana che primo stato al mondo il 30 novembre 1786 ha abolito la pena di morte il primo stato ad averlo fatto al mondo. In nome di quei valori dell'illuminismo che permearono profondamente la cultura di quel tempo in Toscana. Quest'anno ci siamo trovati tutti insieme nella formula della festa della Toscana la Toscana dei valori umani e della lotta alle disuguaglianze a cento anni dalla nascita di Don Milani una figura sicuramente che unisce in un periodo della nostra storia che è quanto mai complesso e che ci tramanda degli insegnamenti importanti ma che ci ricongiunge idealmente allo stesso illuminismo in una matrice cristiana identitaria che ci insegna ad avere cura degli altri. I care. Questa è la Toscana che vorremmo che continuasse la tradizione del grande Pietro Leopoldo una Toscana capace di essere all'avanguardia dei diritti civili e sociali e siamo ripeto particolarmente orgogliosi di essere Toscani. Don Milani ci lascia oggi quello che io chiamo speranze possibili per i ragazzi che devono continuare ad avere un livello di istruzione adeguata senza classismo ma soprattutto le istituzioni perché se si dice speranze possibili c'è una possibilità concreta che deve essere attuata oggi e le istituzioni in primis la regione toscana assieme alle istituzioni scolastiche devono creare quelle sinergie anche con le associazioni in particolare quelle delle famiglie per far sì che i ragazzi abbiano il loro futuro oggi e che nessuno rimanga indietro. Io credo che questa sia una mattinata carica di emozioni e sia anche la sublimazione di questa ricorrenza che è stata istituita più di vent'anni fa ma che ha assunto nel tempo maggiore importanza. Celebrare la Toscana, la Toscana dei diritti e la Toscana che contrasta le disuguaglianze nel senso di Don Milano in un momento come questo ci fa capire quanto attuale ancora sia il messaggio del prete di Barbiana e come il suo messaggio vada molto oltre i confini della Toscana. Da un lato nella politica interna perché noi abbiamo un paese fondato sulla Costituzione più bella del mondo ma che per larga parte soprattutto nel suo articolo 3 sull'uguaglianza è ancora un manifesto politico tutto da realizzare ma dall'altra parte è un messaggio come dicevo che raggiunge gli scenari dei conflitti internazionali che anche prossimi al nostro territorio tutti i giorni ci espongono a scene davvero inaccettabili soprattutto sul piano dei diritti, delle libertà e per questo giusta l'invocazione dell'imam a un rapido cessato il fuoco intera di Israele che possa durare questa tregua. Quindi io credo sia stata una giornata molto densa, molto intensa di sollecitazione di stimoli e ne usciamo tutti noi arricchiti, spero soprattutto i giovani, tanti giovani che partecipano a queste nostre occasioni e per i quali cerchiamo di creare momenti di riflessione e di confronto. Sì è una scelta bella, importante, assolutamente condivisa e anche le presenze che hanno arricchito questa seduta solenne danno il senso profondo di una voglia da parte del Consiglio regionale, da parte della nostra comunità toscana di essere ponte di dialogo, di costruzioni e di occasioni di speranza e di pace. E' anche questo il grande messaggio che noi vogliamo lanciare in occasione di questa festa della Toscana 2023. La proposta di invitare i tre rappresentanti delle religioni monoteiste, una proposta che ho fatto io all'interno dell'ufficio di presidenza perché penso che la giornata dedicata alla festa della Toscana ha maggior ragione nel momento in cui questa festa, quest'anno abbiamo appunto intitolato a Don Milani debba anche essere un segnale di dialogo, un segnale sicuramente di pace. Le nostre comunità stanno insieme se teniamo presente, abbiamo presente che sono comunità composte da persone che hanno fedi e credi religiosi differenti. Quindi il segnale che oggi parte dalla regione toscana dal Consiglio regionale è sicuramente un segnale fortissimo rispetto al quale io sono assolutamente soddisfatto e ripeto è stata una proposta che ho fatto io all'interno dell'ufficio di presidenza. E' molto importante per la Toscana ed è stato significativo festeggiare il proprio giorno di celebrazione all'insegna di Don Milani e del suo messaggio perché ci ha ricordato e ci ricorda ogni giorno come la conoscenza è uno strumento di cittadinanza e ricordarlo a tanti ragazzi e ricordare quel valore della disobbedienza nel di più, disobbedienza nel fare qualcosa di più anziché nel fare qualcosa di meno abbia ispirato il Magistero di Don Milani. Lui in pochi anni di vita, in 43 anni di vita ha lasciato un messaggio che attraversa il tempo. Ancora oggi, da 100 anni dalla sua nascita, essere con i ragazzi a cercare di attualizzare quel messaggio e a sottolinearne il valore eterno è molto significativo e credo che dia senso e corpo a celebrazioni che non sono solo di facciata, di maniera e formali. Noi siamo una comunità civile che si riconosce intorno a momenti e a storie importanti, significative, essenziali come quella di Don Milani.